Io credo che sia il momento di una vera e propria rivolta sociale, perché avanti così non ci si può più andare. Questo è il tema di Pondo e questo sarebbe utile che anche la politica si occupasse un po' di più di questi temi, cioè della condizione di vita e di lavoro materiale delle persone. Queste sono le ragioni del nostro seopero generale. Quando qualcuno dice state facendo politica, sì stiamo facendo politica per cambiare queste scelte qui, perché i bisogni delle persone, il salario, la sanità, lo studio, la stabilità della vita delle persone deve tornare ad essere al centro della politica. Sì, vogliamo migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle persone e siccome non ci ascoltano, perché noi in Parlamento non ci siamo, non abbiamo un altro strumento che non sia quello di chiedere alle persone di sendere in piazza assieme a noi e di battersi, rinunciando anche a una giornata di stipendio, ma per dire basta questa situazione e questa condizione.